Di nuovo in diretta con l'assessore Cutini qui da Radio Roma Capitale, Paolo Cento in voce. Intanto vi do una notizia, forse la do anche in anteprima alla nostra ospite, all'assessore Cutini, perché ci ha chiamato Antonio Maggiora Vergano e ha lasciato in redazione la notizia ufficiale che il prefetto ha firmato la lettera e la lettera è arrivata in Campidoglio, è arrivata ai consiglieri comunali, la stanno notificando in questi minuti per la proroga dei tempi per l'approvazione del bilancio, quindi con un rapido conto si dovrebbe arrivare, si potrebbe arrivare al 23 dicembre, quindi il Comune di Roma allontana un po' lo spettro del commissariamento e avevamo ragione noi a dire che questa lettera doveva camminare velocemente per fare gli ultimi 200 metri dalla prefettura di Roma al Campidoglio, forse ci hanno ascoltato quando poco fa abbiamo lanciato questa esortazione, perché guarda caso, proprio adesso, proprio qualche notizia di qualche secondo fa, c'è l'ufficialità, ringrazio Antonio Maggiora Vergano che ce l'ha comunicata direttamente in redazione dal Campidoglio, adesso sto guardando anche le agenzie, la stanno battendo anche le agenzie, e quindi il Comune di Roma ha ottenuto la proroga da parte del prefetto Assessore. Un sospiro di sollievo. Sì, sì, prendo con voi in diretta questa notizia, era attesa e quindi siamo contenti. È arrivata, sì. Veniamo, ritorniamo a noi, cambia quindi la qualità dell'emergenza sociale a Roma. Quali sono gli strumenti, i soldi, abbiamo visto, il Comune ha fatto una scelta anche nel bilancio 2013, non solo ha reintegrato ma ha aumentato i fondi. Ora il cittadino si domanda, dice, ma questi fondi spesso non si vedono. Cioè la grande paura che hanno gli ascoltatori di Radio Roma Capitale, ma credo i cittadini, è che i soldi si disperdono in mille rivoli, come spesso è accaduto in passato. Non è che qualcuno ci fa chissà che cosa, però poi alla fine non fanno massa critica nell'affrontare le emergenze. È una preoccupazione che condivido, nel senso che come scelta strategica, anche come Assessorato, abbiamo intenzione, abbiamo deciso, e lo stiamo in parte agenziale, estemporanea, negli aiuti, e provare a concentrarci sulle azioni di sistema, su quelle che vengono chiamate azioni di sistema. Quindi di far sì che i cittadini si accorgano, e si accorgano in modo chiaro anche, che qualcosa stia cambiando. Ora, qual è il punto? Il punto, approfitto della domanda perché ho preso anche posizione rispetto a questo, sapete che si sta discutendo anche la legge di stabilità in Parlamento, e io auspicavo e auspico che ci sia un maggior coraggio, proprio dal punto di vista della legge di stabilità, su questo tema, mettendo i fondi su quello che un senatore ha chiamato fondo di povertà, ma a parte le definizioni, di far sì che anche la legge di stabilità porti, si connoti con questa forte intenzione di essere vicino alle persone più povere. e questo è qualcosa che evidentemente va capito bene. Aiutare chi è in difficoltà non è solo aiutare chi è in difficoltà, si gettano le premesse per una crescita anche economica, non si sta soltanto aiutando chi è povero, ma si aiuta tutta la società. Questo deve essere chiaro anche a chi amministra. Quando si sceglie di partire da chi non ce la fa, in realtà si sta facendo una scelta strategica per tutta la società. Questo, quindi approfitto di questa occasione per sottolinearla come preoccupazione, mi sembra che noi dovremmo avere più coraggio. Qualcuno l'ha chiamato reddito minimo di inserimento, i nomi sono diversi. Io sono fautore del reddito minimo di cittadinanza, non so cosa ne pensa lei, assessore, non è compito solo dei comuni, però se si riorganizzasse il sistema di welfare sul reddito minimo di cittadinanza forse ne potremmo venire fuori. Io dico che è un'azione di sistema irrinunciabile. Noi non possiamo aspettare oltre. In questo senso l'Italia non ha uno strumento di sostegno al reddito degno di questo nome. E questo abbiamo perso anche tanto tempo. Quindi quando io parlo di azioni di sistema intendo anche questo, cioè di far sì che il contrasto alla povertà sia qualcosa che possa essere una lotta che veda anche un impegno economico consistente. Perché altrimenti, ripeto, o dalla crisi si nasce insieme o non nasce nessuno. Questo deve essere molto chiaro. Un po' tempo fa leggevo un testo molto corposo di un economista molto famoso, Lindert, che faceva uno studio storico e metteva bene in risalto che i periodi di crescita economica hanno sempre coinciso con periodi di spese sociali importanti. Quindi è evidente, anche dal punto di vista economico, che investire su questo è un vero investimento di sistema. Entriamo nel merito. Parliamo di disabilità. Oggi è la giornata della disabilità. Noi, Ivana, prima che lei arrivasse in studio, mi ha consegnato una domanda da farle, a parte parlare della giornata della disabilità, ma poi in concreto, case e famiglie, noi abbiamo un problema serio. Io me lo ricordo, dai tempi in cui ero amministratore, si cercò di affrontarlo, le case e famiglie. Insomma, queste famiglie che hanno persone diversamente abili in casa, quando passano gli anni si avvicinano all'età anziana, si domandano che ne sarà di mio figlio, che oltre ad avere la sfortuna di una disabilità rischia di rimanere solo, abbandonato, senza protezione. Cose concrete. Io in questo periodo ho incontrato tantissime associazioni e rubo qualche secondo, lo voglio rubare, perché sto portando con me tutta la giornata, perché questa giornata è una giornata importante, perché è la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità e quindi è una giornata molto importante anche per la nostra città. Sto portando con me una fotografia che mi ha regalato proprio uno di questi genitori di cui lei stava parlando, che ha la preoccupazione del futuro di suo figlio, perché è diventato anziano. Dico un nome di fantasia, è una foto di Francesco, non è il suo vero nome, ma è una foto bellissima. La faccio vedere a Paolo Cento. Ed è una bellissima foto di un genitore più giovane, di qualche anno fa, che lancia in aria il suo bambino e poi lo riprende. Questo bambino ha un'espressione splendida, che guarda verso l'obiettivo. E questo bambino è un bambino autistico, è un bambino che ha una grossa sofferenza. Ora questo Francesco, che l'abbiamo chiamato così, ha ora 50 anni. E mi ha molto colpito, mi ha commosso questo incontro, per questo lo ricordo volentieri oggi. In qualche modo la dedico a Francesco questa giornata. A tutti Francesco, che poi ci ascolta. e sono tantissime le famiglie che hanno questo problema, anche che ascoltano Radio Roma Capitale. E che saluto, saluto con veramente molto affetto. E mi ha detto il titolo di questa foto. Il titolo di questa foto, si vede questo genitore che aspetta con le mani in alto, che torni il bambino per essere di nuovo abbracciato, ha chiamato questa foto dono del cielo. E lo ha detto, diciamo, questo incontro mi ha commosso e mi ha fatto capire una cosa. Mi ha fatto capire il valore che queste persone con disabilità hanno per chi li circonda di affetto, per chi hanno per la loro famiglia. Ma se noi non comprendiamo il grande valore che queste persone hanno, noi potremo fare molto, molto poco. Faremo solo discorsi paternalistici, solo residuali, solo... Noi dobbiamo capire che se è vero che la nostra città deve diventare una comunità, se è vero che non possiamo rinunciare a nessuno delle persone che fanno parte di questa comunità, le persone con disabilità hanno un valore aggiunto. E se noi partiamo da questo presupposto, per questo secondo me dobbiamo dedicare questa giornata a tutti i franceschi e a tutti i loro genitori, perché noi come amministrazione non vogliamo solo fare un discorso, va bene, facciamo anche qualcosa per i disabili. Noi dobbiamo far sì che l'integrazione e l'inserimento di queste persone sia completo. E quindi è senz'altro il discorso delle case famiglie, sicuramente, quindi tenete conto che questo bilancio che noi stiamo approvando in questi momenti ha permesso anche di non chiudere delle case famiglie. Questo è il primo risultato importante che noi abbiamo raggiunto è non chiudere le case famiglie... Che erano aperte. Che erano aperte e che rischiavano di chiudere se ci fossero stati quei tagli previsti. Ma è quello di evidentemente di trovare delle soluzioni perché per far sì che dei progetti personali di vita possano essere sostenuti, incoraggiati e quindi facilitati dall'amministrazione pubblica. Ma io penso anche tutto al grande altro tema che è il lavoro delle persone con disabilità. E anche qui io sono convinta che dobbiamo uscire da un atteggiamento così sempre... che il lavoro delle persone con disabilità sia sempre una sorta di zavorra. Ci sono delle ottime sperimentazioni che ci portano a dire che, ad esempio, la persona con disabilità in un luogo di lavoro migliora il clima del lavoro, ad esempio. O migliora una serie di aspetti come quello relazionale. Insomma, io non voglio intrattenervi... Non voglio prendere... No, è però un tema, c'è stato sollecitato... Ma è importantissimo ed è un tema sul quale non dobbiamo fare di più. L'ha detto Ban Ki-moon, lo dico anch'io, dobbiamo fare di più. Perché per questa giornata il segretario generale dell'ONU ha fatto evidentemente un messaggio in cui ha detto che su questi temi dobbiamo fare di più e noi come amministratori ci sentiamo impegnati.